Allora, andiamo ad assaggiare questa simpatica testolina, simpatica testolina, la vedete? La testolina. Allora, in pavigin, 40 gradi. Sapete che io assaggio gin in diversi modi, perché ritengo che sia giusto così, per quella che è la mia esperienza, con cui mi sono anche confrontato tante volte in giro per il mondo con tanti degustatori, eccetera, eccetera. Però poco importa questo. Allora, la mia sensazione su questo gin, gin soprattutto, allora, un numero uno, secondo me è questo puro, non lo bevi. È inutile che lo raccontiamo, perché per essere bevo puro, per essere bevuto puro, mancano un po' di equilibri. Ciò non vuol dire che non sia interessante, anzi, hai delle note ginepro in superficie, una serie di sensazioni legate alle erbe aromatiche, morbidezza, il sottofondo, proprio si sente, e questa leggerezza sugli agrumi, no? Che si percepisce. Qualcosa di radicioso, in profondità. Lo sto bevendo puro. Ma adesso bisogna mettere un cubottino di ghiaccio, cioè andiamo a giocare sulla diluizione, che è fondamentale, secondo me, visto il rapporto intimo che ha il gin con il ghiaccio, però la diluizione serve. Che cos'è la diluizione? Lo spiego per i soliti haters che mi scrivono. Cioè, avete presente quelle tre gocce che quelli che bevono whisky mettono, che poi anche lì si azzuffano tra di loro, perché chi lo beve puro, il whisky, il whisky è un altro mondo, io non lo tratto il whisky, il whisky è un altro mondo. Però chi lo beve puro, chi ci mette tre gocce, perché così senti più sfumature, eccetera, eccetera. Poco importa. Sta di fatto, noi parliamo di gin, che quel rapporto, quella sottile, diluizione, leggera, piano, no? Che si allenta piano piano nel liquido, fa sì che tu possa sentire altre sfumature, altre sensazioni, che sono comunque molto importanti per capire il gin, ok? Quindi, puro è così. Lì mettiamo il cubetto di ghiaccio e poi proviamo la tonica. Eccomi, allora, col cubetto di ghiaccio cosa succede? Andiamo a stemperare la parte alcolica. Quindi qui andiamo più, andiamo, riusciamo a ricepire meglio le varie sfumature. Quindi, piacevolissima, qui senti proprio la piacevolezza della nota verde, del ginetto, insieme ai ricordi di erbe aromatiche, i ricordi di pompelmo che saltano fuori. Sempre per analogia, chiaramente. Insomma, senti tutta questa bella sensazione così, mi piace, lo senti, è disponibile. Ecco, ciò vuol dire che cosa, specifico ancora, che magari non lo bevi puro, liscio, ma se ci metti due cubetti di ghiaccio, questo sottile gioco fa sì che tu possa berlo, ok? Quindi, gli equilibri nel gin, ragazzi, quando lo bevete, vanno gestiti. Altro che pugnette, che vedo che fanno dei gin toni, dove dentro gli mettono le piante di rosmarino, e poi col cannello lì fanno tutte le sfumature. Ma dai! Si chiama mica gin tonica a casa. Mi piace buonissimo il palato, mi piacciono queste note, ecco, così mi piace molto. Ecco, così puro lo bevo. L'alcol arriva dopo, bruciante, chiude caldo, ma non mi infastidisce più di tanto. Quindi così, puro, bello. C'è la parte degli agrumi, una sottile sensazione mentolata, che regala freschezza, ginepro, che regala sostanza. Gli agrumi regalano, danno una spalla un po' in più, qualche sfumatura, qualche gioco di sottofondo. Però la spalla è sempre quella. Mi piace, questo mi piace molto. Proviamolo in tonica, perché noi andiamo fino in fondo. Lo proviamo in tonica con una Fairy Queen, come vedete. Allora, piacevolissimo, veramente anche il rapporto che questo gin riesce, ottimo, il rapporto che questo gin riesce a instaurare con una tonica. In questo caso con questa tonica, ok? Perché è importante, il gin ha un rapporto diretto con... Ma è solo come marito e moglie, o come due amanti, o come due coniugi che litigano. Dopo dipende, è lì che devi saper gestire la tonica. Quindi si vanno ancora a percepire queste note fresche, agrumate. Sotto sotto c'è una leggerissima morbidezza, che gioca, che rende più facile, no? Anche l'interpretazione del gin. Quindi, secondo me, questo è un bel gin. Chiude appena severo, perché chiude con quella nota verde di ginepro. Si continua a percepire anche queste note fresche di agrumi, di erbe aromatiche. E poi si va sempre per l'analogia. Non è detto che ci sia per forza quel ricordo aromatico. Però nell'insieme quello è il ricordo. Perlomeno quello che mi viene in questo momento. Di sicuro, a me questo è piaciuto, trovo che sia un ottimo gin. Non lo berrei mai puro, liscio, puro con ghiaccio, oppure in tonica. 50 grammi, una tonica intera. Secondo me è la condizione perfetta per questo impavido gin.